C'è stato un importante annuncio da parte del team di sviluppo di Tarisland a circa un paio di settimane dalla fine della closet beta che devo dire è molto molto positivo. Molto positivo perché? Perché innanzitutto il team di sviluppo ha risposto in maniera veloce e direi abbastanza concreta a quello che è stato il feedback che noi tester e la community abbiamo lasciato appunto durante il periodo di closet beta. E soprattutto perché sembra indirizzato a risolvere quel grosso problema, quel grosso drama che c'è stato relativo al discorso del pay to win. Per l'amore del cielo, cioè prendiamo le cose con le pinze nel senso non diamo tutto per scontato e se sono già rimasti scottati una volta e una seconda scottatura farebbe molto molto male. Però nel senso io ho sempre ritenuto che sono stati degli errori fatti all'interno di una closet beta, c'era margine per poter migliorare, per risolvere questa cosa e il fatto che il team di sviluppo abbia appunto risposto positivamente, abbia dato questi segnali, è tutto da pensare che la cosa si possa sistemare e possano poi effettivamente farci giocare il gioco che noi tutti abbiamo sempre voluto, abbiamo sempre sperato e effettivamente cioè di poterci mettere le mani, di poter giocare a questo gioco che non sia pay to win. Ci sono due aspetti che mi dispiacciono un po' di questo annuncio ed è il fatto che vabbè alcuni miei video andranno molto probabilmente a farsi bene dire nel senso che adesso andiamo a vedere i punti riguardanti questa cosa però molto probabilmente il discorso delle professioni andranno a sparire all'interno del gioco e quindi vabbè sì mi dispiace per un paio di video fatti ma quello è il minore dei mali perché il gioco possa nascere al meglio e possa renderci tutti felici. E poi il fatto che queste rivoluzioni che verranno portate all'interno del gioco molto probabilmente faranno slittare la sua uscita di qualche mese e quindi un gioco che sostanzialmente era già quasi pronto per uscire, era già quasi pronto per essere divorato da noi in realtà subirà dei ritardi che per l'amor del cielo affinché tutto vada bene, affinché diventi il gioco che tutti vogliamo va benissimo però vabbè molto probabilmente ci saranno dei ritardi per quanto riguarda la sua uscita. Però vabbè dopo questa introduzione andiamo a vedere quali sono i punti che sono stati toccati e effettivamente questo annuncio quali argomenti andrà a trattare. Il primo cambiamento importante che vorrà portato all'interno del gioco e anche quello più dispendioso in termini di tempo come ci dice appunto il team di sviluppo sarà quello riguardante il gender lock ovvero al momento attuale nel gioco per le varie classi si poteva scegliere solo ed esclusivamente un sesso. Cioè tipo la maga era di sesso femminile, il guerriero era di sesso maschile e questa cosa è stata fatta notare sia nei test precedenti sia all'interno della seconda closet beta. Quindi hanno deciso di rimuovere questo gender lock e fare in modo che tutti i personaggi siano giocabili sia di un sesso che dell'altro. In modo tale da garantirci una maggiore customizzazione dei nostri personaggi. È indubbiamente un cambiamento positivo che rende il gioco molto più accattivante e molto più piacevole per tutti. So che però ovviamente cioè dal punto di vista della programmazione, delle scelte grafiche, della realizzazione dei personaggi, di tutte le animazioni e di tutti i cambiamenti che vanno apportati a livello di programmazione e tutto quanto. Ovviamente cioè è un cambiamento che non è immediato da fare e quindi questa cosa sia pur molto positiva è quella che molto probabilmente farà slittare più in là col tempo l'ufficiale release del gioco. Però è un cambiamento importante, siamo contenti di questa cosa e va bene così. Il secondo cambiamento che verrà apportato e anche uno dei due argomenti su cui si basa il tentativo di abolimento del pay to win è il fatto che nelle future versioni del gioco gli equipaggiamenti e gear saranno ottenibili solo ed esclusivamente dai ride. Allora prima praticamente fino alla cruiset beta che abbiamo giocato noi potevamo ottenere i gear sia dai ride come sarà anche in futuro ma potevamo anche craftarli tramite le professioni oppure tradarli all'interno appunto del trade. Questa cosa cosa comportava sostanzialmente? Che per tradare gli oggetti migliori oppure i materiali in quantità superiore per poter craftare più equipaggiamenti e quindi riuscire ad ottenere gli equipaggiamenti migliori si poteva tradare il tutto con l'oro e l'oro era sostanzialmente acquistabile a pagamento facendo il trading delle card che erano acquistabili sostanzialmente come se fossero il pass mensile. La questione era che si potevano acquistare più card di questo tipo quindi tradandole con l'oro si potevano ottenere grandi quantità di oro e avendo grandi quantità di oro era possibile craftare una grossa quantità di equipaggiamenti fino ad ottenere gli equipaggiamenti migliori da poter equipare al nostro personale. In questo modo potendo ottenere gli equipaggiamenti solo ed esclusivamente dai raid si aprono due scenari sostanzialmente. Il primo che la gente per ottenere gli equipaggiamenti deve giocare e quindi i raid di per loro non verranno mai abbandonati. Cioè ci sarà sempre comunque gente che ha bisogno di fare raid per ottenere gli equipaggiamenti e quindi in questo modo mantenere vivo il gioco e poi soprattutto non ci sarà più la necessità di dover shoppare tanto per avere tanto oro e quindi con quell'oro andare poi a craftarsi gli equipaggiamenti. Quindi semplicemente da questo punto di vista l'ottenimento dei gear degli equipaggiamenti migliori si avrà solo ed esclusivamente con la costanza del gioco con la costanza del farming all'interno dei raid presenti all'interno del gioco. E questa cosa è molto positiva perché effettivamente viene eliminato da questo punto di vista il pay to win per ottenere gli equipaggiamenti migliori semplicemente viene spinto al fatto di dover giocare per aumentare le possibilità di ottenere gear migliori e quindi poter potenziare il nostro personaggio. L'altro argomento coinvolto in questo ragionamento è il potenziamento delle inscribe stone. In sostanza le inscribe stone cosa sono? È sostanzialmente il vostro albero delle abilità dove praticamente su ogni ramo ottenete una statistica o un'abilità diversa. La logica vuole che questo potenziamento avvenga progressivamente con lo sviluppo del vostro personaggio. Quindi man mano che proseguo con la storia man mano che supero un certo numero di raid o un certo numero di dungeon otterrò dei punti con i quali sbloccare i vari rami delle mie abilità. Questa è la logica. In parte era così anche prima. Comunque sia la inscribe stone energy si otteneva appunto dal fare i raid, dal farmare i vari raid ma la pecca qual era? Che questa inscribe stone energy si poteva anche tradare si poteva comprare anche questa tramite l'oro. E quindi per lo stesso discorso degli equipaggiamenti chi aveva più oro poteva potenziare maggiormente e più velocemente le abilità del proprio personaggio. In questo modo tutti partiranno dallo stesso punto e man mano che progrediranno nel gioco man mano che faranno i vari raid, i vari dungeon otterranno l'energia necessaria per sbloccare appunto queste abilità per sbloccare appunto i vari rami del diagramma dell'inscribe stone. Quindi questo discorso completamente positivo perché appunto cioè darà a tutti modo di poter sviluppare le abilità del proprio personaggio oppure di ottenere gli equipaggiamenti in modo paritario tra tutti i giocatori all'interno del gioco. Poi è logico che se io per una settimana non gioco sarò svantaggiato nei confronti di chi gioca tutti i giorni. Però almeno tutti hanno le stesse possibilità e queste possibilità non sono influenzate da quanto uno spende o meno. L'ultimo punto di questo annuncio è riguardante l'oro ottenibile in game e faccio subito una precisazione perché molto probabilmente mi sono espresso male fino adesso. Allora non è vero che voi non potete più comprare i gear o l'inscribe stone energy con l'oro perché l'oro è una parte integrante del sistema di gioco. La cosa importante è che appunto per i due processi elencati prima non potrete scioppare l'oro tramite soldi reali ma l'oro è comunque sia ottenibile tramite alcune attività in game. E quest'ultimo cambiamento dal fatto che una maggiore quantità di oro sarà ottenibile tramite le daily del gioco. Quindi anche qui otterrete dell'oro e quindi con questo potrete comprare i vostri equipaggiamenti potrete comprare le vostre inscribe stone energy con l'oro ottenibile tramite le daily e quindi anche questo è un discorso paritario perché chi gioca otterrà oro e giocando potrete quindi scegliervi i vostri equipaggiamenti oppure comprare la vostra inscribe stone energy per potenziare le vostre inscribe stone però tramite un sistema di gioco paritario per tutti completamente indipendente da P2W. Grazie. 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 Grazie.